Per il Pack Geometry andiamo in Udini, possiamo anche creare un nodo di Geometry e al suo interno potremo creare un Platonic Solid. Il Platonic Solid ci permette poi di scegliere altre tipologie, per esempio l'Aiuta Tipot. Io qui posso andare a creare un nodo di file, come abbiamo visto nel primo corso, io dal nodo di file posso salvare anche una geometria, una geometria salvarla tranquillamente e poi ricaricarla. Andiamo a salvare questa geometria e andiamo a scriverla, quindi R9 Geometry Bright. Da un altro nodo di file, me la vado a richiamare tranquillamente, posso riprendere pure questo percorso e lo posso andare a inserire qui. Eccolo. Sostanzialmente è la stessa identica, non ha cambiato assolutamente nulla, però cambia il nodo. Perché ho cambiato il nodo? Perché io qui posso scegliere come andare a caricare e visualizzare la mia geometria, quindi come info, come point cloud, come packet disk primitives, quindi sarà praticamente caricata sul disco nella cartella assoluta, quindi nella cartella dove stiamo lavorando in appoggio, oppure packet disk sequence, io posso avere anche una sequenza. Queste sono le varie tipologie per il packet geometry. In questo modo il suo peso sarà molto inferiore rispetto ad avere la geometria piena. Andiamo a vedere un attimo quanto pesa, quindi dalle info, dalle info, questo lo mettiamo qui e lo blocchiamo, abbiamo quanto pesa in memoria. memoria sono 47 KB. Questo qui è veramente poco rispetto a quanto realmente possiamo andare a caricare. Andiamo a vedere quest'altra. Dobbocchiamolo. In questo caso con lo storage, quindi andando a fare un file cache sostanzialmente, 25 KB, già pesa molto meno. Vediamo se cambio qualcosa, se vado a dirgli di fare un packet e rifresciamo. Vediamo che sono 13 KB. Capite bene che il tempo di refresh e di caricamento di questa nostra geometria è veramente minimo, è veramente veloce e di conseguenza possiamo avere in scena dei file che sono anche più leggeri da poter gestire. Ma vediamo un altro esempio, un pochino più complesso, quindi andiamo a crearci un altro modo di geometri. Magari questo lo chiamiamo io posso applicare anche un packet Sop, che sostanzialmente mi va a creare un pacchettino di questa geometria qua. Io potrei anche creare diverse copie e poi dopo andare a fare questo pack. Vediamo che cosa vuol dire, quindi io vado a creare un nodo di copie. E poi crea un altro nodo di copie. Queste sono le nostre copie. Questo è quante copie abbiamo noi all'interno della nostra scena. Vediamo un pochino qualche informazione. Vediamo che il peso sulla RAM è di 2 MB, si sta parlando comunque di poco, però ricordiamoci che abbiamo degli esempi molto basilari, molto semplici. Vediamo che cosa succede se io mettiamo qui di lato, qui di lato se io vado a creare un pack a geometri. Questo pack a geometri con le informazioni il mio pacchetto pack e ho 8 KB occupati. Capite bene che 8 KB è veramente un'inerzia rispetto a 2 MB e in questo caso abbiamo la possibilità di poter gestire al meglio questa nostra simulazione poi dopo successivamente. Anche perché mettiamo caso che questa simulazione sia di oggetti che vanno a cadere tutti insieme, se avessi soltanto i vari elementi separati avrei molto più peso da poter andare a caricare, quindi avrei fare molta più fatica. In realtà lui perché pesa così poco? Perché lui in realtà sta andando a caricare un singolo punto, il punto del centroid, questo qui, per ogni singolo elemento quindi lui vede i punti, non vede tanto la geometria in sé per sé. Difatti se andiamo a vedere un attimo e qui vediamo le informazioni di entrambi vediamo che abbiamo un punto, una primitiva e un vertice oltre a un Packet Geo mentre qui abbiamo 33.000 punti, 3.300 primitive e 52.000 vertici quindi anche questo è un metodo di interpretazione differente della nostra geometria e sostanzialmente in questo modo qui lui avrà un sistema molto più leggero poi dopo da poterlo caricare rispetto a dover caricare questo numero qua di punti e primitive e così via. io posso anche aprire un Packet per aprire un Packet posso fare un Unpack e facendo un Unpack ritorno alla situazione che avevo iniziale perché io dovrei fare un Unpack? perché magari ho bisogno di dover aggiungere delle informazioni a questo mio pacchetto a questi miei elementi mettiamo caso che io volessi aggiungere delle informazioni inerenti per esempio il colore su questi elementi qui se lo vado a mettere dopo il Pack vediamo che cosa succede per esempio un Color SOP torniamo in Wiframe Mode e diamo un Random vediamo che il colore che lui applica è uguale per tutti quindi ho la necessità di dover spacchettare questo mio elemento per assegnare un colore diverso vediamo cosa succede ora ecco qui vediamo che di fatti ha aggiunto una colorazione differente per i vari elementi ovviamente essendo un spacchettato è molto più pesante da gestire ma per ovviare a questo problema basterà poi riandare a creare un altro Pack lui terrà le informazioni che avevamo iniziali quindi le informazioni che abbiamo dato finora e sarà molto più leggero da poter gestire questo è un sistema per poter lavorare con il Pack e questo è molto comodo se dobbiamo andare a realizzare per esempio un workflow per andare a renderizzare degli elementi non è detto che il Pack e l'Unpack si utilizzi soltanto per le dinamiche si può utilizzare anche per appunto andare a creare un paesaggio molto complesso e poterlo renderizzare in maniera molto veloce rispetto ad altre situazioni oppure per esempio io potrei creare un elemento molto complesso per esempio un albero e poi creare un pacchettino e poi dopo andarla a distribuire come copia su con il Copy and Transform magari aggiungendo anche la Stamp come la Stamp Function e poi dopo andarla a gestire in maniera molto più facile rispetto che dover gestire ogni singolo elemento oltre al Pack e l'Unpack possiamo fare direttamente il Pack anche sul nodo del Copy difatti se noi andiamo a vedere qui se andiamo a copiarci per esempio questi due elementi se vediamo qui abbiamo Pack ed Instance questo ci permette di andare subito a creare il nostro pacchettino e volendo quello che ancora non abbiamo visto che è riportato anche nel nostro Pack abbiamo qua la possibilità anche di scegliere subito se centrare o in base all'origine il centroid è una expression, un modo per poter centrare il pivot di un oggetto nella sua base oppure in base a un altro elemento lo stesso discorso lo possiamo fare anche qua andiamo a vedere le informazioni troveremo 10 punti perché avevamo 10 copie quindi 10 punti e 10 primitive rispetto a quelle che in realtà trovavamo nell'altro sistema conviene però cercare di evitare ora io ho fatto questa cosa un po' sbagliando cercate di evitare di avere un Copy e poi un altro Copy vediamo che infatti Udini dà un errore di console perché potrebbe appunto dare degli errori in fase di lavorazione Grazie a tutti!